Salve amici di All4shooters, oggi siamo vicino a Trieste, nel particolare a Villa Opicina e con noi c'è Ruggero Ama che molti di voi non conosceranno ma che faranno bene a iniziare a conoscere perché si tratta dell'organizzatore della mostra che stiamo visitando in questo momento che si chiama Sharp Art Exhibition e che come avrete capito si occupa di coltelli quindi Ruggero raccontaci qualcosa di questa mostra cosa cosa vediamo e come ti è venuto in mente a organizzarla allora ciao Tommaso ciao a tutti voi allora questa mostra si chiama appunto Sharp Art e ha l'intento di mostrare i coltelli artigianali come se fossero opere d'arte fondamentalmente e per questo sono anche messi esposti vicino a delle opere d'arte il motivo è che spesso si vede il coltello soltanto come un tool un qualcosa che ci serve per un task qualcosa ma può essere anche talmente bello e raffinato da poter essere considerato un'opera d'arte e soprattutto il giorno d'oggi qui in europa dove le leggi diventano sempre più restrittive credo che questo possa servire ad aiutare ad avere una differenza differente approccio al coltello anche da parte del pubblico e infatti qui la Sharp Art e per questo è la prima del suo del suo genere avete opere incredibili in termini di coltelli ma anche opere incredibili in termini di scultura infatti c'è anche esposto arnaldo pomodoro che credo voi conosciate come uno degli artisti più importanti del novecento italiano e internazionale i coltelli qui esposti sono da makers di tutto il mondo alcuni di essi sono importantissimi dal punto che sono fanno parte delle che hai che il art knife invitational che viene organizzata una volta all'anno a new york e vengono raggruppati soltanto i migliori makers mondiali due di quelli che parteciperanno quest'anno le che hai a new york sono presenti qui nella mostra loro il loro nome sono berti ritveld e sfreddo sudafrica e brasile che sono rappresentate qui anche con altri coltelli dal sud africa abbiamo anni anche henning wilkinson con una bellissima daga e tra i più bravi al mondo abbiamo anche gli argentini cas brothers le tecniche utilizzate della forgiatura di questi coltelli sono le più variate le più disparate sono se venite a vederli vedrete cose che sono veramente incredibili io stesso non so come questi artisti riescono a ottenere questi risultati le lame hanno forme di design sempre molto accattivanti e alcuni di essi sono inventori di alcune nuove tecniche del coltello come il keyhole ad esempio sfreddo è l'inventore del keyhole e qui è rappresentato con due coltelli poi abbiamo anche un nostro orgoglio italiano oliver goldsmith lui ha inventato un nuovo modo di fare il codolo in questo caso abbiamo un integrale suo che sembra più una scultura che un coltello per essere sinceri dove hai un integrale completo forgiato lasciato arrugginire e tolta la ruggine assume un colore grigio meraviglioso dove le linee che sono tipiche della della scultura ma anche della produzione di di oliver vengono risaltate al massimo poi ci sono anche coltelli impostrambi come questo che forse vedete nell'inquadratura di giovani talento talenti argentini random nice è un coltello che può piacere o come non piacere ma sicuramente è un coltello che rappresenta un'innovazione abbiamo una guardia che si espone fino alla lama cosa un po inaspettata ma vi posso assicurare comunque quando lo usate quando lo avete in mano vi dà una sensazione quasi utilitaristica e non soltanto estetica e credo che chi sia chi è appassionato sia chi non è appassionato ma che a cui piace la bellezza possa ottenere qualcosa da questa mostra ecco allora da parte mia devo dirti innanzitutto complimenti nel senso che effettivamente i pezzi che sono esposti in questa sala sono di livello altissimo perché comunque oltre a quelli che tu hai citato ci sono artigiani che sono allo stesso livello di quelli di quelli nominati finora abbiamo per esempio bruno bruna graciut che tutti quanti conoscono italiano di maniago oppure faccipieri con uno dei suoi coltelli da cucina e anche a livello di coltelli moderni kiko mazuda non è esattamente un artigiano che si vede normalmente ed è sicuramente degno di nota e devo dire la verità è difficile vedere un livello così alto in una sola esposizione solitamente a meno che non si tratti di un grande salone di quelli su invito come come quello che citavi prima o come il chic di milano come pochi altri quindi sicuramente molto interessante la fiera purtroppo noi ne abbiamo dato notizia su all for shooters con anticipo ma la fiera chiuderà domani però tu ci dicevi che in realtà sharp art è un progetto che sta iniziando quindi non si esaurirà con questa esposizione ma la tua idea sarebbe quella di portarlo in giro per l'europa o per l'italia sì allora intanto ti ringrazio per i complimenti e volevo citare magari altri due nomi di giovani italiani che sono esposti qua uno piccinino e un altro e fetel talenti incredibili italiani che imparerete a conoscere sicuramente e come dicevi tu appunto la mostra questo è vuole essere una sorta fate conto come se fosse un gruppo facebook ma nella realtà dove i quelli che fanno parte del gruppo facebook sono i makers non sono io e quindi utilizzare il mondo reale per far sì che sia ci sia un punto di incontro questo punto di incontro poi verrà spostato in diverse location perché voglio che la maggior parte delle persone abbia la possibilità di vedere queste bellissime cose e spero di riuscire a portarlo magari al museo di maniago in occasione del coltello in festa e magari a vienna ea lubiana che sono tra l'altro i due paesi confinanti di dove siamo perché qui vicino c'è la slovenia e non molto distante c'è l'austria il quindi l'intento è di dare risalto ai coltelli ai makers e far sì che il pubblico abbia l'opportunità di ammirare queste opere perfetto allora noi chiaramente ti ringraziamo per l'invito ti facciamo nuovamente i complimenti e a questo punto ti chiediamo di tenerci aggiornati per sapere quale sarà il futuro di sharp art exhibition quali saranno le prossime date e dove si potrà venire a vedere questa collezione che c'è già anticipato che alcuni pezzi andranno ma altrettanti ne arriveranno quindi mi sento di dire che comunque è una collezione eccezionale che anche rinnovando si rimarrà sempre di altissimo livello grazie mille tomaso spero di poterla appunto spostare in altri posti e vi sarò farò sapere sicuramente le date e dove trovarla perfetto grazie mille e quindi motivo di più per seguire all four shooters ciao